Confronto a città di Castello tra amministrazione comunale e bus Italia. Sul tavolo il futuro del trasporto nell'altavale del Tevere con gli obiettivi da raggiungere a medio e lungo termine facendo leva sui fondi del PNRR per l'efficientamento della rete ferroviaria nel tratto Perugia-Città di Castello Sansepolcro e l'esigenza di una ottimizzazione dello scambio ferro-gomma nel dettaglio tra le richieste del comune rappresentato per l'occasione dal sindaco Luca Secondi e dall'assessore Rodolfo Braccalenti lo spostamento del terminale de bus di piazza Garibaldi alla stazione ferroviaria di piazza della repubblica per creare un terminal unico per i bus e i treni. Una proposta che Bus Italia con Alessio Scinfignini direttore dell'esercizio gomma dell'azienda e Antonio Federici direttore dell'esercizio ferro hanno accolto per poterla meglio valutare e iniziare un percorso di condivisione degli obiettivi e dei tempi altro argomento sul tavolo la questione sicurezza anche all'indomani di atti vandalici registrati nell'area della stazione. Bus Italia ha convenuto della necessità di aumentare la sorveglianza a tutela della sicurezza degli utenti argomento che sarà dibattuto con Umbria Mobilità proprietaria dell'immobile.